Sì, buongiorno a tutti. Credo che dopo il discorso di Matteo Renzi dovremmo tutti meditare e pensare a quello che ci ha detto che è veramente un discorso che è condivisibile. Io ho due cose sottolineate molto importanti, quello sul tema della sanità, del MES. Noi sappiamo che ai fondi del MES la Comunità Europea ha stabilito che si possono utilizzare soltanto per le nazioni che sono in bancarotta, cosa che è stato fatto nel passato, che l'hanno utilizzato la Grecia ed altri. Mentre per la specificità del momento tutti gli stati li possono utilizzare per il MES e per la sanità, visto il problema del Covid. E credo che soprattutto per le regioni meridionali da dove io vengo, credo che ci sia la necessità di organizzare delle infrastrutture migliori e quindi quale migliore opportunità. Ma l'altra cosa che vorrei evidenziare è quella che mi è piaciuta molto, è quella sul lavoro. Quando lui dice la possibilità di far compartecipare i dipendenti agli utili dell'azienda. Proviamo ad immaginare, lavoriamo su questo e credo che è una cosa molto importante. Ma io mi vorrei limitare a dire una cosa soltanto. Io sono membro su PEN del Comitato delle Regioni e una sorta di risultato che abbiamo fatto. Qui c'è Nicola Dante assieme a dire con Italia Viva. Siamo riusciti come gruppo di Italia Viva, parlando sia con Nicola Dante sia con Sandro Gozzi, ad organizzare come Renew Europe la prima riunione dell'intergruppo tra i membri del Parlamento Europeo e i membri del Comitato delle Regioni. Ovviamente non italiani e già c'è stata una prima riunione che abbiamo fatto a Bruxelles. Purtroppo quel giorno Nicola non c'era, ma c'era Sandro Gozzi. Non c'era per assenze forzate del periodo. E quindi il primo partito in Europa che organizza queste cose. E anche Italia Viva per dire come si rende propositiva. Noi faremo degli incontri che è già stato fatto, dicevo, la settimana scorsa nell'Aula del Parlamento Europeo. Abbiamo fatto questo incontro con il gruppo di Renew Europeo, di cui il vicepresidente è appunto Nicola Dante, che ci sono 93 mi pare se non erro, parlamentari europei, e il gruppo dove abbiamo anche discusso delle tematiche. Ed è stato anche importante, soprattutto per quanto mi riguarda, io sono un membro supplente, faccio appello al partito che purtroppo il nostro gruppo non ha ad oggi un membro effettivo al Comitato delle Regioni, mentre tutti gli altri gruppi politici hanno un rappresentante, quindi anche di portare questo. Ed è servito anche per confrontarci sui vari temi. Io sono stato nominato per esempio relatore per redigere il parere sull'emigrazione legale, legale, attrarre competenze e talenti, che è un tema di rilevata importanza. Perché noi oggi pensiamo che la stragrande maggioranza siano quelli che vengono da noi, cioè, come dire, non in modo legale, cioè delle emigrazioni illegali. Eppure è una minima parte, invece. Tutt'altro è quella che è l'emigrazione legale e che tante cose si possono fare. Sulla base di questo esempio io credo che si possa organizzare la Renew Europa-Italia per far sì che si prepari bene e non essere magari da sole, avendo pure tutto il coraggio, ma cercare di stare assieme per fare in modo che le elezioni sicuramente saranno prima di dieci mesi. potranno essere fra tre o fra dieci, ma io credo che ci debba essere l'organizzazione e credo che come Italia Viva dobbiamo cercare soprattutto di lavorare per il gruppo di Renew Europa. Volevo dire tante altre cose, ma il mio... Lo so, Pino, sei... La tua premessa è sempre... Sono solo due minuti stavolta, no? Grazie, grazie. Grazie, Pino. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie tante.